e la gente di arena il partito che roberto fondò e organizzò quella gente fu sempre ostile a monsignor romero lo calunniarono si burlarono di lui e lo spiavano per indagare le sue intenzioni penso che questo fosse il gruppo che roberto frequentava e da questi nacque l'idea così crudele di assassinare il monsignor romero per noi fu molto duro fu molto difficile credo che sia stato il periodo più difficile della sua vita politica era impossibile per noi accettare il fatto che fosse mio fratello a voler togliere di mezzo una persona che amavamo così tanto una persona che per noi e per il nostro popolo rappresentava la speranza